Musica Benvenuti ai selfie di CBF Oggi siamo a Trieste con Luca Angelina, scultore Che ci mostra subito una sua scultura Vi faccio vedere Guardate, è abbastanza particolare Adesso lui stesso ci spiegherà Guardate, ci sono anche dei piccoli dettagli Che possono sembrare fatti a caso In realtà assolutamente no Luca, intanto spiegaci di che materiale è fatta questa scultura Intanto buonasera a tutti Questa scultura è fatta in creta, in terracotta In questo caso terracotta base Perché ce ne sono, ci sono vari tipi di terracotta È una terracotta appunto base, insomma Agilla Ma cosa rappresenta? Questa è una scultura che si chiama L'astrazione geometrica Parte dall'idea di aver creato più forme geometriche E poi averle astratte Modificandole rispetto alla loro forma originale Ma e quindi questa Luca è la tua prima scultura? Questa non è la mia prima scultura Io ho lavorato Intanto sono più o meno tre anni e mezzo Che affronto la scultura E in questo caso la modellazione Perché l'argilla si modella E all'inizio ho lavorato Quindi Fermiamoci un attimo Questa si modella e non si scolpisce? No, la pietra, il marmo si scolpiscono Il legno si scolpisce L'argilla si modella Ok, scusami Prosegui pure All'inizio io ho cominciato Facendo un corso Avendo partecipato a un corso a Firenze Di scultura figurativa Cioè Come realizzazione della figura In questo caso figura umana O comunque cose reali Nella loro forma reale Non astrarta Però c'è da dire Che Luca è un ragazzo non vedente E questa cosa cambia molto Le carte in tavola Perché? Spiegaci un po' perché Cambia molto perché la didattica Per l'insegnamento della scultura Per i non vedenti è diversa Deve necessariamente essere diversa Perché nelle scuole di scultura normali Diciamo Per i vedenti Il vedente vede il modello Che viene proposto E lo realizza Il non vedente necessariamente Deve avere qualcosa da toccare Che sia un modello umano o meno Quindi è proprio un approccio Un tipo di didattica È un approccio diverso Nei dettagli rispetto Sì All'occhio Certo Quindi sicuramente noi questa scultura La vediamo dal punto di vista Appunto visivo Ma per te che l'hai realizzato Invece ci sono tanti piccoli dettagli Che invece riusciamo soltanto Toccando Alla fine toccandola ci sono tanti dettagli Che non si vedono Ma Luca Quindi tu hai fatto una scuola di scultura Specializzata per i ragazzi non vedenti No Non esattamente La prima non lo è stata Ho fatto a Bologna Una scuola specializzata In basso rilievo Per non vedenti Magari ne parliamo dopo Il primo corso è stata una scommessa Di una scuola di arte sacra Di Firenze Che ha voluto raggruppare Diversi artisti non vedenti In Italia e esteri Con un bando Che è stato vinto In questo caso da 13 persone Per insegnare E anche vedere cosa Insegnare la scultura Insegnare le tecniche di modellazione In maniera più ampia Si sta facendo un corso Presso una scuola di marmo In Toscana A Carrara? Sì In questo caso a Carrara Questa scuola di marmo Per persone vedenti Insieme a delle associazioni Di categoria per persone non vedenti Insieme a loro Hanno deciso di fare questo corso Di provare Di sperimentare Ecco questa cosa Però io voglio dire Scuole di tutta Italia Offrite un'occasione A chi come Luca Vuole imparare Vuole mettersi in gioco Vuole fare una cosa diversa Perché Dato che non c'è la possibilità Mettetevi in gioco Come ha fatto questa scuola di Firenze In altre parti d'Italia Perché lui ha avuto la possibilità Da Trieste Di spostarsi Andare a Firenze Però non tutti Hanno la stessa possibilità E invece vorrebbero fare Una cosa così bella E interessante Che comunque riguarda l'arte Perché l'arte Insomma in Italia È Come dire È una risorsa È la nostra risorsa Quindi Scuole di tutta Italia Su Fate qualcosa Bisognerebbe Che le scuole Si mettessero A disposizione Sì E comunque imparassero A capire Quello che è Quello che è Una persona non vedente È quello che può dare Anche perché Come hai detto C'è la paura Magari di Di non sapere Cosa fare E come insegnare Anche perché Come hai detto Nel corso i 15 giorni I non vedenti Sono stati più bravi Dei vedenti Quindi Voglio dire Banda alle ciance Allora ti ringraziamo Luca Per essere stato Nella mia trasmissione E vi ricordo Di seguirmi Sui social Ma non solo Anche Luca Ha un blog E la sua pagina Facebook Quindi seguitelo Sculturalmente Il blog Si chiama Sculturalmente Appunto Blogspot Appunto Net Ecco Appunto com Ecco Vedi la scultura Gli ha dato alla testa Forse le donne Chissà Allora Vi ringraziamo Di averci ascoltato Anche questa sera Seguitemi sui social Su Facebook E su Instagram Chiara Basile Fasolo E viva la scultura Viva Minuti 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 Minuti